Ciao, oggi vediamo un circuito total body che puoi fare anche se hai dolori e tensioni a collo e a schiera. Infatti andremo a fare degli esercizi abbastanza intensi, però in scarico sul tratto cervicale e sulla schiena. Quindi, se ti hanno sempre detto che con dolori e tensioni non ti puoi allenare, non è vero. Non rinunciare quindi alla tua forma fisica, ma allenati con me e il mio programma. Partiamo subito con il primo esercizio. Per il primo esercizio ti servirà la ring band o elastico anulare e lo andremo a posizionare sopra al ginocchio. Da qui andiamo a metterci in posizione di squat e andiamo ad aprire bene lateralmente le gambe, in modo tale da fare un passo laterale o un passo granchio. Quindi stringo forte addome e andiamo. Passo 1, 2, mi raccomando bacino basso, schiena scaricata, 3, 4 e 5. Ritorno, vai, 1, 2, 3, 4 e ancora e andiamo. 1, apri bene il ginocchio piede, 2, 3, rimani bassa, scarica il collo, scarica la colonna. Ultimo e vai, 1, 2, rilassa le spalle, 3, 4. Per il nostro secondo esercizio ti serviranno dei pesi. Io utilizzo quelli da 3 kg perché andiamo a fare il rematore. Da qui gambe e larghezza di spalle, fletto il busto, stringo addome, il peso va in avanti, la testa è allineata alla schiena. Da qui vado a tirare il gomito stretto e ritorno allineata. Quindi inspiro e vado. 1, 2, gomito stretto, tiro bene il dorsale, 3, 4, scarica bene anche quella schiena, 5, il collo non lavora, 6, è libero il collo, 7, 8, ancora vai, 9 e 10, stop. Terzo esercizio, corpo libero, doppia larghezza di spalle. Da qui andiamo a fare un affondo laterale alternato, portando bene il bacino all'indietro. Ne andiamo a fare 10 alternati. E vai, 1, anche qui, scarica il collo, scarica la schiena, 2, stringimi sempre il corpo però, 3, rilassa le spalle, 4, andiamo, sediti dietro, 5, 6 e ancora, 7, 8, stringi qua, 9, ultimo, 10 e stop. Quarto esercizio, andiamo a utilizzare invece adesso i pesi da 2 kg, andiamo a utilizzare questo muscoletto, ovvero le alette di pipistrello. Da qui, sempre, busto in avanti, bacino dietro, braccia qui, gomito stretto, testa allineata alla colonna, distensione dietro, inspiro fuori aria, vai, 1, 2, lavoro solo con il braccio, il collo e la schiena sono scaricati, 3, 4, core stabile e forte, 5, 6, 7, 8, 9, rimango, 5, 4, 3, 2, 1, e per il nostro ultimo esercizio andiamo a metterci a terra perché andiamo a utilizzare l'addominale, quindi andiamo giù, testa appoggiata in modo da scaricare sia il tratto cervicale che il tratto dorsale e lombare, da qui, gamba distesa, vado a fare delle sforbiciate, ombelico risucchiato e vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rilassa il collo, rilassa le spalle, 8, 9, ancora, 10, 9, 8, 7, risucchia l'addome, 4, 3, 2, 1, e stop. Molto bene questo circuito per almeno tre volte per ottenere un circuito completo total body appunto senza caricare il collo e senza caricare la schiena. Allenati con me in Wonder Training che è l'unico programma personalizzato al 100% che puoi fare da casa ovunque tu ti trovi, che tiene conto dei tuoi obiettivi specifici ed eventuali tensioni e dolori che puoi avere. Lo scopri al link in bio o vai su www.katiavaccari.com. Ciao! Grazie a tutti!